Buonasera e benvenuti all'appuntamento con dentro la notizia il contenitore di informazioni di econews.it e teleponte benvenuto a Luca Frangioni il consigliere provinciale delegato alla scuola all'istruzione e ovviamente siamo nel pieno della cronaca ieri sono ripartite le attività didattiche nelle scuole provinciali di Teramo che sono nelle scuole superiori che sono di competenza della provincia di Teramo eravamo già pronti per il 7 il governo ha deciso di rinviare all'11 come siamo ripartiti tutto a posto tutto bene tutto in regola? Buonasera innanzitutto grazie per avermi invitato e per avermi dato questo spazio abbiamo riniziato con diciamo con zero problemi se non dei problemi di manutenzione ordinaria e straordinaria su alcune scuole dove purtroppo nel periodo invernale si sono rotte le caldaie quindi insomma le abbiamo ordinate le stiamo su una scuola stiamo lavorando su un'altra le abbiamo per un'altra le abbiamo ordinate ma insomma breve sistemeremo anche questo eravamo pronti in realtà noi per il 14 settembre con i lavori con i lavori covid abbiamo rispettato tutte le scelte le decisioni fatte dal governo pur se qualcuna non condivisa non condivisibile da parte mia personale noi avevamo una possibilità importante questo covid poteva essere colto come un'opportunità visto che comunque si è dato un maggiore incremento ai bandi diretti si è alzato il livello minimo degli affidamenti diretti se non c'era molta più meno burocrazia e più possibilità di fare lavoro non l'hanno colto non è stata colta questa opportunità perché dico questo nell'emergenza si poteva si poteva si poteva approfittare per rendere più sicure le operazioni alcune scuole perché lei deve sapere che noi c'è una regola c'è una legge che non l'ha scritta io ma l'ha scritta qualcuno prima di noi che ogni ragazzo a scuola deve avere un metro e 97 quadrati circa due metri quadri al di là delle norme covid al di là delle pandemie questa è una regola proprio che attiene all'edilizia scolastica quindi se noi avessimo semplicemente speso fondi per applicare la legge non avremmo speso innanzitutto soldi che adesso vanno bene perché ci sono delle regole covid ma fra qualche mese qualche anno speriamo qualche settimana così magari ci siamo liberati anche del covid non serviranno più quindi saranno fondi diciamo in parte buttati e avremmo comunque preso le nostre scuole molto più sicure e a norma di legge perché sono scuole che effettivamente hanno delle grossissime difficoltà ad esempio quale tipo di difficoltà forse qualcosa anche col sisma allora il sisma ha creato delle difficoltà perché chiaramente abbiamo degli istituti chiusi e quindi questi istituti chiusi sono riversati negli altri istituti dove c'era dello spazio penso diciamo all'ipsia di giulianova penso a delle scuole di teramo che sono comunque sovraccariche tipo lì di alessandrini che comunque insomma hanno una difficoltà di spazi che stiamo pian piano risolvendo comunque con degli spostamenti con la riapertura del comi l'unica perché sono altre scuole tipo ad esempio il safo di roseto che comunque ha delle scuole molto delle aule molto piccole insomma questo è un po' una pecca per quanto riguarda tutto l'istituto di roseto ma ci sono anche altre scuole che rende difficile l'adeguamento per la prevenzione dal covid ma insomma è difficile in ogni caso avere spazi troppo ristretti per le aule esterne in una dell'opera Piamarta per quanto riguarda il caso di roseto perché effettivamente le scuole non erano più adeguabili cioè già erano sovraccariche quindi se avessimo magari speso questi soldi per fare delle nuove costruzioni o degli ampliamenti sulle scuole già esistenti avremmo reso un servizio non oggi alla comunità teramana ma oggi per il covid e un domani per i ragazzi che andranno a frequentare un investimento che sarebbe rimasto nel futuro a disposizione delle scuole dei ragazzi che frequentano lo stesso tipo di problema di aule c'era anche al curi di giulianova che invece avete risolto spostando c'era un problema di aule non dovuto esclusivamente al covid ma dovuto alla crescita esponenziale della scuola lì è un problema che purtroppo viene da purtroppo per fortuna perché insomma se una scuola cresce vuol dire che sia la classe docenti se il dirigente lavora bene quindi insomma per fortuna cresce purtroppo il problema ce l'abbiamo da tre anni noi siamo arrivati insomma da meno di due e l'abbiamo trovato stiamo cercando di fare un ampliamento della struttura siamo stati già finanziati per la progettazione adesso insomma stiamo portando avanti tutta la documentazione necessaria candideremo la scuola per il recovery fund abbiamo un discorso aperto con la regione per dei fondi per l'ampliamento adesso come dicevamo prima abbiamo affittato una struttura a colleranesco si chiama superiride dietro a zona industriale di colleranesco e abbiamo insomma dato queste nuove aule al liceo di giulianova parliamo sempre di affitti insomma adesso sia per il saffo di roseto che per il curi di giulianova l'obiettivo è quello di renderle efficiente di renderle non sono di proprietà di disponibilità delle scuole su roseto c'è un po' di amore in bocca perché avevamo trovato insieme al vicepresidente le chiudi una soluzione che potesse mettere riparo insomma queste difficoltà avevamo già preso contatti con l'opera pia marta che poi abbiamo affittato per acquistare l'intera struttura poi qualcosa non è andato insomma avevamo anche l'accordo sul prezzo avevamo avevamo parlato anche con la cassa depositi e prestiti per avere un finanziamento sia per l'acquisto che per la ristrutturazione del bene poi qualcosa si è inceppato insomma è stato rimandato la diciamo l'acquisto però abbiamo affittati e quindi comunque i locali la speranza è che in un prossimo futuro questi locali possono essere realmente acquistati divenuti di proprietà della provincia così il safo avrà insomma una scuola una scuola sua perché comunque voi siete comunque intervenuti sulla manutenzione ordinaria o straordinaria anche dei locali affittati quindi un investimento per la riapertura dell'anno scolastico c'è comunque stato un doppio investimento uno sull'80 mila euro circa sull'affitto e poi tutto l'adeguamento dei fondi per l'adeguamento e su teramo città anche lì il sul covid insomma c'erano delle delle progettualità sulle scuole teramane per esempio con la riapertura dell'istituto comi di viale bovio doveva essere spostato lì tutto lo scientifico Einstein e mi pare un altro piano occupato da un'altra scuola e tutto era tutto per lo scientifico il problema che adesso con le difficoltà covid ovviamente il liceo scientifico ha avuto bisogno di più aule e quindi ha dovuto continuare la frequentazione del vecchio plesso perché tutti gli alcomi con il distanziamento non ci si stava poi adesso faremo il comi 2 perché lì sarà demolito e ricostruito la parte dove c'è la croce rossa per intenderci quindi insomma la scuola verrà anche lì verranno riutilizzate le palle verrà rifatta riferire alla palestra stiamo facendo dei lavori anche importanti sulla palestra quindi si sta lavorando è vero che con il covid lo dicevamo a telecamere spente purtroppo abbiamo avuto dei rallentamenti si parlava di avviare direttamente questo anno scolastico con il liceo scientifico Einstein spostato al comi invece avete dovuto rinviare il progetto abbiamo dovuto rinviare perché comunque non avevamo lo spazio necessario ma ci sono state anche altre cose che lasciano insomma un po di mi lasciano un po di amarezza perché insomma noi abbiamo progettato messo a bilancio trovato i fondi per l'ascensore al tipo Parozzi dove una scuola frequentata con una grossa percentuale di ragazzi disabili e quindi insomma anche lì abbiamo dovuto rinviare perché avendo pochi tecnici all'edilizia scolastica non siamo riusciti ad andare purtroppo a rispettare il cronoprogramma che ci eravamo dati già all'inizio anno però ci siamo dati degli impegni e delle promesse insomma che entro quest'anno l'ascensore vedrà la luce certo insomma con tutto in sostanza con tutta l'estate trascorsa ad adeguare le scuole al covid il problema grosso è stato quest'estate l'apparato tecnico non ha potuto occuparsi anche è stato hanno fatto un lavoro incomiabile tecnici e dipendenti perché devo dire che il 16 di agosto ci sentivamo telefonicamente perché stavano lavorando quindi insomma le ferie se le sono fatte poi tutti quanti scaglionate ma dopo dopo ferragosto però non avevamo certezze dei lavori da fare noi avevamo comunicazioni strada facendo cioè da marzo aprile non abbiamo mai avuto un indirizzo dello stato preciso e chiaro a giugno abbiamo avuto il primo la prima indicazione di finanziamento che erano 750 mila euro per i fondi covid non sono bastati perché comunque abbiamo dovuto mettere altri 300 mila euro di fondi nostri del bilancio della provincia in più ad agosto ci hanno detto che potevamo affittare immobili quindi che ci davano anche dei soldi per affittare gli immobili e ad agosto trovare degli immobili e renderli operativi per settembre non era molto semplice è stato semplice a Roseto perché avevamo già un discorso aperto con il Saffo meno a Giuliano va perché abbiamo dovuto fare dei bandi dobbiamo trovare delle soluzioni in più fondi che sono arrivati solo per il 30% quindi abbiamo noi fatto già un'anticipazione di cassa e abbiamo pagato tutte le aziende che hanno lavorato o stiamo finendo di pagare comunque tutte le aziende che hanno lavorato con la provincia per i lavori e i documenti covid anche lì insomma stiamo correndo un po' dietro un'incertezza generale che fa un po' male un po' a tutti ma soprattutto abbiamo cercato di non farla riversare poi sulle scuole, sui ragazzi, sui genitori Sì, ho anche questa incertezza in decisione dalle regole, da colore, ora gialla, ora rossa, ora si riprende molte regioni, mi pare 15 regioni non hanno comunque rispettato in qualche modo la riapertura dell'11 gennaio hanno spostato alcune addirittura fino al primo febbraio la riapertura delle scuole superiori Sì, mi avviso si doveva fare forse a settembre, era una data da rinviare io avrei come ho detto Quindi proprio la ripresa dell'attività scolastica Le scuole devono riaprire, i ragazzi devono tornare a socializzare, devono tornare a vivere la scuola anche al di là della didattica, ma proprio a viverla, mi immagino le superiori, ricordo insomma qualche anno fa le prime cotte, i primi amori, devono vivere la scuola perché è la socializzazione ed è fondamentale, però a settembre secondo me era un po' presto perché non si era fatto un lavoro prima non c'era una sicurezza con i trasporti, non c'era, io non parlo solo della provenienza Sì, in generale, che sono le vulnerabilità della scuola in tutta Italia Che poi hanno prodotto la chiusura a ottobre Quindi insomma, fare un discorso prima sarebbe stato più lungimirante O si partiva marzo ed aprile già in funzione di settembre ma quando arrivi a luglio, giugno, luglio, agosto, settembre dopo domani quindi insomma è difficile poi rimettersi al passo con i tempi Lì a quel punto bisognava bocce ferme, secondo me, rinviare tutto all'8 gennaio, 7 gennaio ma fare un lavoro di programmazione non solo di lavori Quindi non un'apertura a ottobre come si era buciferato ma direttamente all'8 gennaio Era l'8 gennaio che quei 3-4 mesi si potevano pianificare i trasporti, finire i lavori fare dei lavori anche più sensati, come dicevo prima, per le messe in sicurezza delle scuole non solamente per i lavori Covid, perché di fondo ce n'erano tanti Però sui trasporti voi avete lavorato perché sono aumentate le corse Diciamo al lavoro di sua eccellenza il prefetto, è stato fatto un tavolo in prefettura con i comuni interessati dove esistono le nostre scuole, la provincia e la tua La tua ha aumentato di 17 autobus 17 autobus ma sono aumentati a livello chilometrico, tante, ha fatto un lavoro molto centellinato e poi chiaramente ci sono 7 aziende private che hanno comunque messo a disposizione i propri mezzi per aiutare ad incrementare la possibilità ai ragazzi di spostarsi Noi abbiamo una popolazione studentesca di 11.500 ragazzi Oltre il 60% di questi ragazzi utilizzano mezzi pubblici per arrivare a scuola Quindi insomma il lavoro è stato fatto, un lavoro veramente centellinato Se fosse stato fatto prima probabilmente avremmo avuto meno problemi con i contagi Gli assembramenti, gli autobus, il problema dei trasporti ha creato sì molte criticità e molte polemiche perché poi è inutile tenere distanziati i ragazzi a scuola quando si riassembrano sull'autobus No io ricordo che c'era un decreto, se non mi sbaglio, poi insomma si disse che era una fake news ma in realtà fu un decreto dove si assimilavano i ragazzi ai parenti pur di farli stare sull'autobus C'era da fare una programmazione, io capisco la pandemia, non sono un professore non sono una persona che vuole insegnare niente a nessuno però è chiaro che molte volte è meglio fermarsi sedersi a tavolino, ragionare a bocce ferme con più calma e sangue freddo capire qual è la soluzione migliore non affrettarsi perché tanto io faccio politica e amministrazione se una cosa la fai sei criticato perché la fai se non la fai perché non l'hai fatta quindi l'importante è che uno è con la propria coscienza a posto nel dire ho fatto secondo la mia coscienza la scelta migliore Le scuole si sono anche adattate a studiare delle forme di orari contingentati per gli ingressi e le uscite dei ragazzi proprio per evitare degli assegnamenti e a quel punto lì ci sono autobus disponibili I primi giorni di scuola abbiamo avuto dei disagi questo è inutile nasconderlo la provincia era sobbissata di telefonate anche se noi non abbiamo competenza sui trasporti ma cercavamo di mediare sia con la tua sia con... Era parlato di ragazzi o costretti ad aspettare in strada l'autobus che non arrivava perché quel lavoro che è stato fatto adesso all'inizio di coordinamento all'inizio è mancato è mancato lo Stato all'inizio che comunque coordinasse tutte le strutture cosa che invece adesso è stato fatto in maniera incomiabile è chiaro che come dicevo noi non possiamo pretendere che si possa gestire una pandemia senza avere un benché minimo di sfaccettatura, di sfumatura negativa perché quello che stiamo vivendo è un periodo che non è gestibile con semplice e buon senso quindi ci vuole di più, ci vuole molto più impegno e ci vuole il lavoro di tutte le parti sociali messe in campo Non sappiamo neanche bene dove si va e cosa accadrà perché poi ovviamente dipendiamo da dati sanitari che poi detteranno le regole Questo è vero e la cosa che fa più male è aver visto anche persone purtroppo conosciute che sono tornate a casa da scuola infette e magari un nonno non c'è più una famiglia non c'è più anche questo è il rovescio della medaglia poi secondo me delle scelte fatte in maniera Comunque devo dire che forse la scuola da questo punto di vista dal punto di vista dei contagi c'è forse l'ambito, il settore che si è salvato un po' di più Io dico sempre che a scuola non ci si contagia L'abbiamo bloccata Ovviamente, sono chiuse Però è chiaro che a scuola non ci si contagia a scuola si entra già in contagiati e poi lì c'è la possibilità la maggiore possibilità io mi auguro che da oggi in avanti non ci siano più contagi mi auguro di cuore Comunque adesso le regole anche interne alla scuola di prevenzione per portare la mascherina al distanziamento si sono inasprite insomma si sono rigidite Devo dire la verità io a settembre quando si sono aperte le scuole ho fatto un giro insomma per salutare i ragazzi, i dirigenti e ho visto all'interno della scuola un lavoro minuzioso dei dirigenti scolastici con i loro collaboratori è chiaro che poi al di fuori della scuola è il problema al di fuori nelle fermate dei pullman nella socialità dei ragazzi che viene meno a scuola e quindi è chiaro che poi c'è la necessità all'esterno di riprendere un po' contatti contatti con la realtà Quello non solo nelle scuole ne abbiamo voglia un po' tutti ovviamente Fran Gioni, ieri c'è stato il consiglio provinciale di Teramo tra le tante cose approvate le tante cose in discussioni è stato approvato all'unanimità un ordine del giorno contro la cancellazione del collegio elettorale di Teramo che è un argomento che ci sta tenendo un po' sulle spine anche il presidente della provincia a proposito di una serie di progettualità una serie di iniziative ha detto dobbiamo costruire una lobby Teramana perché Teramo non sia più la cenerentola di questa regione è stato un bel momento in consiglio provinciale perché il collega Lanfranco Cardinale ha presentato un ordine del giorno che è stato poi accolto anche dal gruppo dell'opposizione che ha ragione ha voluto specificare all'interno con un piccolo emendamento il coinvolgimento anche dell'Assemblea dei Sindaci che è un organo della provincia da parte nostra abbiamo detto non solo l'Assemblea dei Sindaci ma tutte le parti sociali noi dobbiamo coinvolgere i consiglieri regionali i deputati eletti nella nostra provincia perché è chiaro che Teramo viene depauperata da un collegio elettorale viene depauperata da una possibile rappresentatività di essere rappresentata in Parlamento e questo avendo visto una storia passata dove esime onorevoli hanno dato tanto al nostro territorio faccio dei nomi due su tutti perché li ho a cuore Donino Tancredi Norocco Salini li ricordiamo tutti li ricordo ma con affetto insomma è veramente con grande piacere hanno fatto tanto ci sono stati sicuramente altri non me ne vogliano gli altri ma insomma io ho avuto contatto personale con loro e quindi ho avuto piacere di ricordarlo però l'università sono stati tanti che al di là dell'idea politica che ci può unire o dividere hanno veramente rappresentato la centralità Teramana Roma ecco in qualche modo questo manca al territorio questo viene a mancarci questo manca anche oggi purtroppo anche con la rappresentatività attuale perché altrimenti io credo che insomma parlamentari locali avrebbero potuto gli attuali parlamentari alzare un po' il tiro alzare la voce far sentire le esigenze di un territorio perché se noi vediamo a livello storico la nostra provincia ha qualcosa in più rispetto a qualche altra provincia abruzzese è vero che magari ha una popolazione minore ma insomma la storia di Teramo è molto più antica rispetto alla storia di Pescara quindi non me ne vogliono i nemici pescaresi poi si tratta di equità non solo di grandezza se vogliamo parlare di storia è anche giusto ragionare su questo è vero che ogni provincia merita una rappresentatività e su questo ci si deve battere unitamente Consiglio Provinciale assemblee dei sindaci partiti politici perché no sono rappresentati in Parlamento quindi fare una cosa estremamente trasversale e far sentire effettivamente che Teramo c'è ed è unita per la salvaguardia di una rappresentanza politica Sì e tra l'altro un atteggiamento ecco questo sì Teramano trasversale che anche il sindaco di Teramo accoglieva accoglieva salutava insomma con molto favore questa delibera del Consiglio Provinciale e di Teramo e diceva proprio che le istituzioni tutte le parti in causa tutte devono unirsi per rivendicare questa un diritto sostanzialmente il diritto alla rappresentanza anche perché poi se guardiamo sono altre regioni che hanno una rappresentatività maggiore eppure sono più piccole della nostra quindi insomma dobbiamo capire con quale criterio è stata fatta questa quello che non si capisce Frangioni è perché quando accadono le cose l'Abruzzo viene diviso sempre in due tre province da una parte e Teramo invece dall'altra non è che viene diviso geograficamente oppure dal punto di vista della popolazione lo dico proprio anche della mia parte politica noi siamo stati molte volte vittima di candidature arrivate da Roma arrivate dall'alto piuttosto che magari ricordo l'ultima campagna elettorale insomma c'erano dei partiti che avevano dei candidati ineccepibili del territorio l'ex governatore Gianni Chiodi ad esempio che poi ha dovuto fare una scelta con un partito piccolino ma si è preferito a un ex governatore della regione Abruzzo a una persona ex sindaco di Teramo una persona di una qualità politica e amministrativa immensa una persona che veniva da fuori questo è purtroppo a mio avviso una pecca della classe politica che negli anni insomma non è riuscita a battere i pugni sul tavolo ma cosa accade a livello politico perché questo forse c'è anche nei partiti anche nel singolo partito si creano fazioni problemi di equilibrio rivendicazioni stiamo vedendo qualcosa anche nella nostra provincia in questo senso insomma i partiti all'interno hanno le persone ogni persona ha delle ambizioni sappiamo benissimo che molte volte le ambizioni personali sono più importanti per alcuni sono più importanti del ruolo di una rappresentatività di un territorio io non parlo in prima persona ho sempre condannato insomma chi ha anteposto le proprie intenzioni le proprie ambizioni personali ha le ambizioni di un territorio di crescita perché noi dobbiamo sapere sempre che un territorio merita il meglio e il meglio non lo decide Luca Frangioni per se stesso il meglio lo decide una comunità di un partito una comunità umana un gruppo politico che comunque si identifica in un valore quindi il nome che deve andare insomma molte volte avanti lo devono decidere i coordinamenti locali e invece così spesso non è lo vediamo insomma molte volte all'Abruzzo è stato all'Abruzzo è stato imposto dall'alto una scelta che poi insomma nessuno me ne voglia ma non è che abbia portato grossi risultati in Abruzzo stiamo vedendo che comunque poi c'è un po' di maretta nel mondo politico adesso qui anche qui a Terra o in alcuni comuni si voterà in primavera però vediamo che c'è un po' di maretta all'interno delle forze politiche abbiamo visto in regione con il rimpasto nella Lega sta accadendo qualcosa c'è qualche braccio di ferro lei è un rappresentante un esponente di Fratelli d'Italia lo ricordo a chi non dovesse saperlo cosa sta accadendo quali equilibri politici si stanno configurando nella nostra regione ma soprattutto a Terra in provincia di Teramo io faccio una riflessione io penso che la politica sto pensando anche al sindaco di Giulianova che ha avuto qualche diattiva con la Lega no io credo che la politica all'interno dei partiti e anche al di fuori dei partiti deve avere un valore inclusivo perché nessuno può pensare che da soli si ha la possibilità di vincere le elezioni quindi è vero che dobbiamo avere un valore inclusivo è vero anche che c'è bisogno di un rispetto e di un senso di appartenenza che deve essere comunque acclarato cosa succede? molto spesso che è successo quello che è successo con il PDL qualche anno fa dove magari sono entrati tante persone che non hanno fatto militanza all'interno dei partiti e questo entrare magari all'interno di un partito grande ricoprendo ruoli magari anche importanti a livello amministrativo ha prodotto poi uno scollamento con la base perché la base è ben salda quando dalla base esce qualcuno che poi possa rappresentare queste persone l'ingresso di altre persone all'interno dei partiti è importante perché i partiti non possono crescere senza l'ingresso di persone in politiche fondamentali è anche vero però che succede poi nei partiti e per agganciarmi alla tua domanda succede poi che nei partiti non essendoci senso poi di rieppartenenza perché io vedo tanti amici nella Lega che magari provengono da Forza Italia o comunque da ex alleanza nazionale quindi magari non avendo avuto un percorso comune con tutti il gruppo ci può essere magari uno scollamento ci può essere magari una via preferenziale piuttosto che un altro ognuno cerca cerca magari di primeggiare di intervenire in maniera più incisiva sta dicendo che si può scegliere l'ingresso in un partito anche per trovare una collocazione il tale ruolo il tale incarico la tale candidatura sì io l'ho detto in maniera molto sobria l'interesse personale di cui diceva le ambizioni di ognuno sono libere e lecite però vanno non possono cozzare con diciamo una struttura di un partito non possono cozzare con un gruppo che insomma parlo in quel caso di Fratelli d'Italia che ha traghettato il partito dallo 0% perché insomma io sono entrato in Fratelli d'Italia quando eravamo allo 0% e oggi è un partito competitivo è un partito che stiamo ieri dicevano al 17 non lo so i sondaggi ci credo poco e mi preoccupano i sondaggi perché più ci danno in crescita e più mi preoccupo perché insomma partito si sondaggia a volte sì perché poi magari si fa il passo più lungo della gamba perché dice siamo pronti invece noi dobbiamo sempre rimanere con la nostra umiltà con il nostro senso di appartenenza e con i nostri valori perché oggi io incontro le persone per strada e le persone mi dicono non ci sono più valori non è vero la politica non ha più ideali non è vero magari si dà questa impressione ma ci sono partiti che hanno ideali ci sono partiti che hanno valori come ci sono altri che ne hanno diversi forse chi si interfaccia con le persone è perché in cerca di poltrone in cerca di ingresso dà senso dà questa impressione che forse non ci sono più gli ideali invece gli ideali ci sono ci sono e sono ben saldi all'interno del partito però forse lei sta parlando di una politica che si discosta un po' è un romantico se mi posso permettere di dire della politica che oggi come dicevamo si discosta parecchio e spesso da questi valori da questi da questi ideali e da questo lavoro costante che va fatto sul territorio se non torniamo alle nostre origini se non torniamo ai valori veri le persone non ci crederanno più oggi va a votare il 50% degli eventi diritto questo significa che le persone non credono più alla politica non credono più ai partiti hanno avuto la delusione prima con Berlusconi poi la delusione con Renzi poi la delusione con altri partiti che sono arrivati immagino Salvini poi la delusione con i 5 Stelle la gente oggi è delusa dalla politica è delusa si butta di pancia a votare un partito che magari non li rappresenta ma perché siccome siamo arrabbiati allora votiamo di pancia molto è successo questo dire che noi cittadini ormai sappiamo che in campagna elettorale mi prometti di tutto poi non lo mantieni poi magari cambia addirittura partito lei poi parlava adesso diciamo di uno stesso ambito quello del centrodestra ma abbiamo visto dei salti abbiamo visto dei salti da un polo all'altro con molta facilità ovviamente questo non avvicina discosta tantissimo le persone dalla politica questo è per quello che dico noi dobbiamo dare non il senso che entriamo in un partito perché abbiamo bisogno di una spilla o di un gagliardetto da mettere noi entriamo in un partito perché crediamo che Fratelli d'Italia io parlo del mio e parlo della mia scelta viene da un discorso di una destra sociale di una destra vicina alle persone di una destra vicina al popolo di una destra che risponde ha le necessità dei cittadini per quanto può e per quanto attiene alle sue competenze se noi diamo l'impressione invece di voler entrare nella Lega in Fratelli d'Italia o in Forza Italia perché vediamo un buon viatico per una carriera personale non diamo un bel diciamo un bel immagine al cittadino comune che già è disgustato e discostato dalla politica se noi non gli diciamo vieni nel partito perché condividiamo queste due idee queste due ideologie queste due cose che ho stato voglia di fare il cittadino si allontana sempre di più e vedremo che dal 50 arriviamo al 45 e poi chiaramente decideranno solo i partiti poi chi rappresenterà i partiti stessi e questo sì insomma già sta un po' accadendo soprattutto a livello nazionale è rimasto poco tempo a nostra disposizione sul presidente Marsilio che è un suo compagno di partito sodale di partito compagno che lo scusa ho stato mi permetto la battuta insomma compagno ho stato un termine in questo momento inappropriato scherziamo e il presidente Marsilio sta lavorando nonostante sta facendo un grande lavoro nonostante gli si rimproveri molto di non essere un abruzzese doc solo di origine io credo una cosa di essere stato promesso da Roma il presidente sta facendo un lavoro veramente veramente difficile per tanti motivi uno perché ci sono delle diciamo delle economie in giunta da far quadrare quindi poi chiaramente ci sono dei compromessi come tutte le famiglie bisogna mettere d'accordo tutti i figli quindi è anche difficile insomma ogni volta puoi riuscire a fare sempre quello che uno ha in mente di fare però ho fatto delle scelte per l'Abruzzo diciamo da grande uomo da grande padre di famiglia di far lasciatelo dire perché la scelta di entrare in zona rossa ha salvato il lavoro di commercianti terramani abruzzesi per il periodo di Natale l'anticipazione della zona rossa e la delibera che ha fatto anche sapendo che poteva cozzare con un DPCM in atto è stata di un coraggio e di una forza che in realtà mi ha anche stupito perché in effetti un uomo delle istituzioni che insomma forza un pochino la mano pur di salvaguardare insomma le attività commerciali è un'attività commerciale devo dire la verità grazie all'ordinanza del Presidente Marsilio in quei giorni ho potuto lavorare qualche giorno l'ha recuperato ho potuto recuperare qualche giorno che dopo i mesi di lockdown precedenti diventavano oro insomma per chi poi le tasse le deve pagare le scadenze ci sono quindi insomma da queste piccole cose si vede quanto magari una persona è attaccata alla propria terra ai propri conterranei poi sono delle cose che insomma come tutte le persone umane di questa terra può fare meno bene più bene ma questo insomma poi lo decideranno i cittadini quando si tornerà a votare è la prima regione che comunque per il Terramano mostra attenzione secondo lei abbiamo delle abbiamo insomma delle delle operazioni che comunque la regione sta facendo sul Terramano anche grazie all'assessore Quaresimale al sottosegretario D'Annuntis insomma anche grazie al nostro partito che pungola pungola continuamente il presidente per immagino lo zoprofilattico non so se Dottisa di qualche giorno fa ha firmato un'ordinanza perché lo zoprofilattico aveva bisogno di comprare i tamponi la regione ha nella legge di bilancio messo una somma cospicua per a sostegno dello zoprofilattico ma tutte le volte che è stato chiamato il presidente per i problemi sul Terramano ha sempre risposto presente ha sempre risposto in maniera positiva è chiaro ripeto non è un un mio lodare la mia parte politica perché comunque le cose poi si fanno e si possono fare sempre meglio però insomma diciamo che da come viene dipinto da alcuna stampa o da magari da alcuni colleghi della provincia di Terramo da lì insomma si discosta parecchio perché poi verrebbe da dire anche a loro che ci sono stati prima insomma grossi segni sul tragitto non li abbiamo non li abbiamo notati poi andiamo purtroppo sono argomenti che avrebbero bisogno di più tempo e di più attenzione avremo sicuramente occasione di riparlarne in chiusura le chiedo torniamo alla scuola alla sua delega domani finisce il covid dopo domani che fa? la prima iniziativa che secondo lei da intraprendere per istituzioni avevo un'idea che poi ho parlato l'ho condivisa anche con i ragazzi della consulta degli studenti perché loro quando mi invitano cerco sempre di essere presente anche via telefono via Skype c'è bisogno di socialità quindi una manifestazione innanzitutto di unione delle nostre scuole può essere sportiva può essere culturale può essere insomma di questo genere quindi noi abbiamo bisogno di tornare a stringerci la mano perché covid finito sì sì parliamo parliamo covid finito qual è il primo interesse abbiamo bisogno di tornare ad avere dei contatti dei rapporti umani stretti questo per quanto riguarda insomma che sia attraverso lo sport attraverso il resto c'è da fare c'è da fare molto perché noi abbiamo oltre 40 milioni di euro di progettazione sui fondi terremoto su Mutubei quindi insomma la provincia deve andranno riadeguate risistemate ristrutturate dobbiamo fare tanto su Teramo dobbiamo fare tanto su Giulianova tanto su Roseto su Atri con cui stiamo facendo stiamo insomma stiamo lavorando sul terremoto soprattutto terramano le scuole che sono comunque ferme abbiamo il legio artistico che è stato progettato e quindi stiamo aspettando il bando per la progettazione rifariamo da capo la struttura demolizione ricostruzione la prima provincia d'Italia che utilizza delle tecniche innovative di progettazione insomma quindi abbiamo dei fiori all'occhiello da portare avanti questo è chiaro speriamo di poterlo fare ma si devono fare anche se il covid purtroppo non ci abbandonerà per il momento perché rischiamo insomma di perdere anche dei finanziamenti se non lo facciamo e quindi quello stiamo bisogna fare bisogna accelerare ho chiesto scusa nella conferenza stampa di fine anno dove non siamo riusciti a mantenere la parola perché io dicevo sempre non sono promesse ma sono sono preso l'impegno di fare determinate cose soprattutto perché la politica deve fare una cosa fondamentale deve rendere la vita migliore ai cittadini nel mio caso ho la telecreditizia scolastica devo cercare di fare almeno qualcosa per migliorare insomma la vita della classe dei studenti insomma della provincia di Teramo dico sempre mia moglie che mi prende in giro certe volte mi dice ma tu può essere che fai politica senza una remunerazione sei l'unico politico che lo fai con passione anche le 10 di sera a casa le 11 ti chiamano io lo faccio perché un domani magari il mio figlio che adesso oggi 18 mesi dirà quella scuola era consigliere mio padre all'edilizia scolastica e quello per me sarà il vanto più bello che possa avere insomma fra qualche anno se poi non ci riuscirò insomma non lo dirà non glielo diremmo visto che è piccolo insomma di sicuro avrà da dire bene comunque ringraziamo Luca Frangioni con la promessa di rivederci presto per parlare di politica anche molto volentieri soprattutto e ringraziamo quindi Frangioni consigliere provinciale con delega alla scuola e ringraziamo voi per averci seguito l'appuntamento e alla prossima edizione di Dentro la Notizia grazie e buonasera Grazie a tutti Grazie a tutti